Hai presente quando sei al mare, magari bello spaparanzato al sole sulla tua sedia a sdraio, che ti godi la giornata e non vorresti essere disturbato da niente e da nessuno perché giustamente sei in vacanza. Ebbene, arrivano in quel momento gli animatori, queste figure che vengono a molestarti ogni 5 minuti proponendoti adesso il karaoke, adesso la caccia al tesoro e ora magari che so, la serata danzante. Ebbene, Microsoft è il loro perfetto equivalente digitale, nel senso che mentre noi vorremmo goderci tranquillamente i nostri pc e il nostro Windows, ci viene a molestare con i suoi aggiornamenti che ultimamente ci stanno creando dei problemi colossali. Infatti gli ultimi update bloccano il pc, non fanno funzionare addirittura il tasto start e insomma creano una serie di problemi che sarebbero evitabilissimi. Ma per fortuna anche in questo caso ci viene in soccorso la nostra community che nelle persone dei due moderatori, Andrea e Chris, hanno sviluppato delle soluzioni interessantissime che possono risolvere tutti i problemi degli update di Windows un pochino riottosi. E allora non perdiamo tempo e se anche tu non vuoi correre rischi, vediamo come possiamo risolvere in maniera estremamente semplice. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Dopo aver detto iniziamo, ho dato una sberla, non so se si vedeva nel video sul tavolo, che involontariamente ha fatto vibrare tutto, ivri compresa la stessa telecamera. Ma andiamo avanti, non prima tuttavia di aver eseguito il nostro consueto rituale apotropaico che serve a placare le ire funeste delle divinità del tubo. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ma sì, andiamo avanti! Anche perché in questi giorni non è che io abbia ricevuto due o tre commenti, ma sono stato letteralmente sepolto sotto una balanga di segnalazioni di poveri utenti che lamentavano tutti questi problemi con i nuovi aggiornamenti di Windows che riuscivano in determinati casi, come vedremo, a paralizzare completamente le loro macchine. Per fortuna però, come detto in apertura, abbiamo le nostre brave soluzioni. Ma prima andiamo ad inquadrare rapidissimamente il problema e successivamente, naturalmente, vediamo come intervenire per risolverlo. E allora diamo una rapida occhiata a volo d'uccello per capire quali sono gli aggiornamenti incriminati e che tipo di problemi possono dare ai nostri pc. Gli aggiornamenti sono tre. I primi due sono il KB5044284, il secondo il KB5044285 che possono dare questo tipo di errori qui che ti riporto nell'articolo. Leggili con calma per cercare di capire se si tratta di errori che anche tu hai visto comparire sulla tua macchina e poi c'è quest'altro aggiornamento che forse è il peggiore di tutti, cioè il KB5044384 che invece è stato rilasciato tre giorni fa e installandolo possono essere sì da un lato risolti molti problemi, ma diversi utenti hanno anche segnalato la comparsa di vari errori che impediscono di completare proprio la procedura. L'aggiornamento è opzionale, quindi lo installi solamente se vuoi, ma nel caso in cui lo installi anche questa volta puoi incorrere in questo tipo di errori che ti sto mostrando. Ma a questo punto come comportarci? Va fatto questo aggiornamento? Non va fatto? Beh la risposta è sì, ma va fatto per bene. E allora andiamo subito a vedere come. Ok, a parte tutti quanti questi errori che abbiamo appena visto che si possono verificare in fase di installazione che sono sicuramente estremamente noiosi, la cosa peggiore che ci può capitare è che smetta a seguito di questi update di funzionare il nostro tasto start, ovvero questo pulsantino qui che è quello da cui gli utenti di Windows faranno praticamente tutto. A questo ha trovato una valida soluzione il nostro Andrea Paruolo che non solo è un membro della community ma anche uno dei moderatori del nostro forum e quindi grazie Andrea e vediamo il video che mi ha mandato fatto con il suo telefonino per spiegarci come risolvere questo noiosissimo problema. Allora sto facendo questo video apposta perché ho l'ennesimo computer che ha lo stesso problema, voi andate in start ci pigiate sopra senza fare niente scompare, notate che c'è un problema grosso di bug soprattutto sulle icone che non che non appaiono all'interno del menu start o appaiono ogni tanto, vabbè comunque dovete per forza fare un ripristino di sistema. Per fare un ripristino di sistema senza usare start dovete prendere una cartella che avete sopra il vostro desktop oppure anche l'esplora risorse che di solito la gente mette su start perché tutto quello che c'è su start non funziona dal menu start però se ad esempio avete chrome, chrome funziona quindi non è un problema ok allora andate su una cartella qualsiasi e poi pigiate la frecciolina in su fino a quando non arrivate in testa sul pannello di controllo se arrivate sul pannello di controllo siete salvi perché qui avete ripristino eccolo qua andate su ripristino apri ripristino configurazione di sistema scegliete un punto non lasciatelo scegliere a lui e sceglietelo voi avanti allora di solito quando fa un'installazione di aggiornamento lui comunque un punto di ripristino lo fa ok non scegliete questo scegliete quello che c'è prima io di solito ne faccio uno diciamo a vuoto ogni tanto senza che ci siano delle dei cambiamenti veri e propri quindi in questo caso questo è il mio avanti fine sì e bom fa tutto lui ci metterà un po di tempo soprattutto se avete il computer datato se avete tanti programmi e tanti file nel sistema ma quando si riavviera sarà a posto quando si riavvia mi raccomando andate in windows update e per adesso bloccatero per almeno una settimana vediamo come si sviluppano le cose i prossimi giorni probabilmente microsoft troverà già la soluzione tra due o tre giorni in realtà microsoft nel frattempo si è data da fare ed ha già risolto la questione relativa a questo aggiornamento pubblicandone una nuova versione che ho installato proprio ieri sulla mia macchina che precedentemente mi dava problemi e che non riusciva ad aprire correttamente il tasto start che adesso funziona regolarmente naturalmente quello che dovremo fare in caso in cui avessimo invece questi problemi sarà seguire la procedura che ci ha spiegato andrea andare a rimuovere una volta che avremo ripreso possesso del nostro computer questo aggiornamento e a rifarlo perché ci arriverà sicuramente nella nuova versione un problema che invece viene risolto dall'aggiornamento a sua volta problematico sembra una barzelletta ma è veramente così kb 50 44 384 che abbiamo appena visto come installare correttamente è quello relativo agli errori che venivano generati sulla versione 24 h2 di windows 11 nel momento in cui lanciavamo il comando sfc se infatti digitavamo sfc slash scan now ci venivano riportati una serie di errori ora questo problema viene risolto da questo aggiornamento ma c'è un consiglio che vorrei darti una volta che avremo sistemato tutta questa questione degli update ovvero di lanciare uno script particolare che ci viene consigliato dal nostro membro della community e moderatore il carissimo chris che ha creato tutto questo per noi per scaricarlo andremo a farlo direttamente sul sito di gentiluomo digitale e quindi apriamo il nostro browser nel motore di ricerca digitiamo come sempre per l'appunto gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it apriamo il sito una volta che si sarà aperto ci porteremo qui nella sezione downloads nella pagina che si aprirà scenderemo un po più in basso fino ad individuare questo file quello che si chiama manutenzione completa by chris nel caso in cui non dovesse essere presente questo file quello che dovremo fare sarà semplicemente portarci qui in alto a destra sulla lente di ingrandimento e scrivere anche semplicemente chris mi raccomando con la k effettuare la nostra ricerca e vedrai che ci verrà mostrato questo stesso file facciamo clic per andare a scaricarlo ti garantisco che è minuscolo e una volta scaricato andremo a cliccare su questo pulsantino per aprire la cartella dei download e potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più quindi adesso facciamo doppio clic sul file manutenzione completa in un clic e andiamo a trascinare sul desktop il suo contenuto ovvero un unico file che si chiama assolutamente nello stesso modo fatto questo ci basterà cliccare due volte sul file appena scaricato accettare con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo accettare con esse una prima volta di rimandare l'operazione di check disk premere invio accettare una seconda volta di rimandare la stessa operazione e attendere il termine delle varie operazioni di manutenzione automatica di tutto quanto il nostro sistema che verranno effettuate da questo strumento utilissimo ecco fatto non sono arrivato al quarto mandarino ma ce l'avevo qui a questo punto possiamo premere un tasto per continuare la schermata si chiuderà automaticamente e quello che ti consiglio è di effettuare a questo punto un riavvio del computer nel corso del quale verrà automaticamente effettuato un controllo del disco nel momento in cui il computer si sarà riavviato avremo il nostro sistema operativo pronto e funzionante da notare che l'ultima operazione che è stata effettuata prima del riavvio era proprio il famigerato sfc ed eccoci giunti finalmente al termine di questa esaustiva ma anche sfiancante disamina di tutta questa carrettata infinita di problemi che si portavano dietro gli ultimi aggiornamenti di windows problemi risolti ci tengo a ribadirlo grazie al provvidenziale intervento e contributo di alcuni membri della nostra community che non smetterò mai di ringraziare anzi proprio a proposito di ringraziamenti alla community quest'oggi ci tengo a ringraziare antonio bergamini franco tedesco lorenzo paoletti franco salvadorini claudio cornacchia e luciano maria giancotti insieme a sandro zanetti per essersi abbonati barra aver rinnovato il loro abbonamento al nostro canale e quindi a voi tutti il benvenuti o il ben rimasti a bordo della community dei gentiluomini ma anche dobbiamo ringraziare mario marzorati detto marietto luca geromin giorgio p thomas 29 15 ed alex bocelli per i loro generosissimi super grazie con cui a loro volta hanno voluto contribuire alla vita della community grazie a tutti i ragazzi dal profondo del cuore ma manca ancora un ringraziamento che come sempre è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima